Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Addio eterno alla leggenda della musica, è venuto a mancare a Roma, all'età di 77 anni, il tanto amato cantautore italiano. Nato nella capitale il 5 settembre 1945, iniziò la sua carriera scrivendo per altri artisti prima di affermarsi come interprete e autore. Oltre alla sua carriera musicale, contribuì alla creazione di colonne sonore memorabili per il grande schermo, tra cui quella del film «Questo e quello», diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Nino Manfredi e Renato Pozzetto. Inoltre, realizzò la sigla finale del programma televisivo «Tappeto volante», condotto da Luciano Rispoli. Autore di brani indimenticabili per artisti del calibro di Rosanna Fratello, Toni, Ornella Vanoni e Nicola Di Bari. I social media sono pieni di messaggi di cordoglio mentre la musica italiana piange la scomparsa di questo grande talento. Autore di successi come «Se mi lasci non vale», si distingueva per la sua incredibile versatilità, collaborando con una vasta gamma di artisti, da Edoardo Vianello a Womo Bike, da Ornella Vanoni a Bobby Solo, da Nicola Di Bari a Lando Fiorini. La notizia è stata annunciata dalla figlia, Ilaria, parliamo di Luciano Rossi. E tu, quali ricordi hai legati a Luciano Rossi? Lascia il tuo pensiero nei commenti. La musica italiana e il mondo intero sentiranno la mancanza di questa vera icona musicale. Grazie per la visione.